ciao a tutti io sono francesca e oggi c'è mia figlia che parla vabbè e oggi è venerdì 27 comincia così il blog il mio compagno sta preparando questo io sto facendo la video ricetta perché lui è più bravo di me a cucinare ma ci vuol poco quindi comincio questo blog tardi perché sono le 9 però domani ho dei giri da fare non è che ho voglio fare dei giri e quindi che durante il weekend diciamo che prevalentemente la bimba se la va da lui io sono durante la settimana e il weekend giustamente metto un po il muso fuori di casa e ordinato su aliexpress e su delle cose e quello che ho ordinato su aliexpress ve lo farò vedere video anche quello di chiavi però su aliexpress ho ordinato delle cosine tecnologiche e quindi dovrò fare l'unboxing la recensione e poi vedrò se fare anche altri video sono cose che a me piacciono un sacco quindi ovviamente su chiavi ho ordinato dei listitivi per mia figlia perché ci sono ancora gli sconti penso ci saranno fino a marzo mi sembra fino al 3 o al 5 non lo so e quindi ne sto approfittando quando lui va a ricaricare la carta perché giustamente io acquisto e lui spende e niente qua c'è mia figlia che mi sta stringendo la mano non mi piace come idea i bambini vanno preservati e vanno tenuti lontano dai social e quindi però è qua che mi sta praticamente distruggendo la mano e niente stasera vi ho mangiato delle patatine io ho mangiato le patatine ho mangiato anche la pasta ho mangiato delle patatine messe al forno che ferite ma con la frigitrice ad aria tra l'altro devo salutare una mia utente che fa sempre dei commenti carinissimi gioia fede e ti saluto e ti ringrazio per i commenti che fai che sono carinissimi e niente dai ci vediamo vlog facendo questo e alla fine non è venuto il pane adesso vado ad assaggiarlo eccoci qua è sabato e vado da primark ci vado da sola è la prima volta che faccio un viaggio così lungo perché da casa mia a primark è un'ora e quindi faccio un'ora di andata un'ora di ritorno tanto mia figlia è col padre a casa e quindi sono tranquilla e io vado vado a vedere perché l'altra volta ci siamo andati settimana scorso ma è stata una toccata e fuga e quindi niente voglio vedere tutto con più calma ecco quindi vado da primark ci vediamo dopo tra l'altro ho trovato parcheggio subito che qua è sempre pieno il parcheggio e l'ho trovato subito quindi buona buona cosa allora sono arrivata a casa vi ho fatto il video acquisti primark però adesso vi faccio vedere gli altri due acquisti che ho fatto che non sono due però sono andati in altri due negozi e ho preso vabbè una cosa è stata una voglia perché è una voglia e poi dalla prenatal vi faccio vedere quello che ho preso dalla prenatal allora dalla prenatal ho speso 62 euro ho preso ho fatto la scorta di crema come al mio solito e ho preso questi pantaloncini qua estivi che non hanno una fantasia granché però insomma vabbè se non ha niente da mettersi una sera o un giorno acquisti pagati 4,19 perché io ho la gift card poi io ve l'ho preso allora questo non sa bene da quando le andranno bene ah da 4 mesi in avanti siccome quando fa 4 mesi è lo stesso giorno che si toglierà il divaricatore avrà due regalini dai perché è stato bravo che si toglierà il divaricatore allora le ho preso questo bicchiere io non sono sicura vada bene dai 4 in avanti non è che è da 4 anni vabbè vedremo al massimo le daremo qualche volta invece questo qui ne ho già una simile per insomma che li verrà data quando farà 4 mesi però questo qui da 6 mesi in avanti è una tazza molto bella allora per quando avrà 4 anni rimarrà lì dai o anche per rimarrà anche quando avrà 2 anni senza problemi peccato vabbè è che ci scrive ci scrivono 4 più e c'è anche qua per i mesi ci scrivono 6 più ecco non ho guardato e non ci ho scritto meglio colpa mia colpa preso ho fatto la scorta di penne come ho detto ho preso adesso ve le metto tutte in ordine mi piace avere le cose in ordine le sue cose in ordine le mie no le sue 5 6 8 e 10 creme erano scontate questo è scritto 3,99 non so perché nello sconto 4,99 non lo so comunque ho un euro o due comunque ho fatto scorta perché erano sconto poi nell'altro negozio e qui è la mia voglia che mi sono tolta ho visto che vendevano questo io ho l'apple watch originale però a me piace confrontare anche i cloni e quindi ho detto vabbè e questo che l'ho pagato 35 mi sembra poi ci faccio dei video con questo quindi alla fine i soldi mi rientrano tutti dicevo con questo qui vi dovrò fare sicuramente il video unboxing il video recensione e forse anche il video configurazione non lo so poi siccome mi devono arrivare degli altri cloni farò anche il video confronto quindi i soldi della spesa mi rientrano tutti poi dopo non è che io li tengo io li rivendo forse ci guadagno anche allora che poi tra l'altro questo qui è un clone che produce questa catena di negozi diciamo che hanno delle fabbriche forse non lo so si chiama check store e mi hanno detto che lo producono loro questo clone infatti non ho mai sentito nominare vabbè niente adesso vi faccio il video unboxing adesso il mio compagno è andato a prendere la pizza perché stasera ho voglia di pizza e niente questa sarà la giornata di oggi un po' movimentata domani sto a casa perché direi che per questa settimana ho speso abbastanza anche per un bel po' ho speso abbastanza però dai sono cose che comunque servono quindi ecco e niente ci vediamo alla prossima clip eccoci qua io finisco così questo weekend vlog bevendomi un caffè con voi e vado a mettere il mio quintale di zucchero penso che questo vlog lo caricherò a febbraio sicuramente perché ho reciso che i sabati e le domeniche li tengo liberi da video e ho tutti i giorni occupati fino al 15 di febbraio che ho deciso che caricherò il vlog di San Valentino quindi ve lo caricherò il 16 di febbraio questo video e speriamo che entro il 16 di febbraio vi sia andato via questo herpes perché ormai sono 4-5 giorni che ce l'ho speriamo e niente adesso non bevo il caffè comunque perché ho finito di cenare un'oretta fa all'incirca e adesso mi sono bevuto il caffè mi sa che dopo oddio non c'era più il caffè quindi non è tenuto niente mi sa che dopo giocherò a buracco con il mio compagno non lo so faremo qualche gioco di società anche perché sono le 8.40 da sembra che quello lì è indietro di travenuti se ho 8.41 qua dice quindi sì per 1-2 orette giochiamo poi dopo andiamo a dormire perché vabbè la vimba già dorme ma tra poco devo mangiare e sono rimasta una chiata di caffè porca miseria no 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 o sì boh vabbè dopo mi pulisco e niente adesso mi pulisco poi chiudo il vlog ok mi sono pulita detto questo adesso io vi saluto noi ci vediamo al prossimo video che vabbè non so non mi ricordo bene che video programmato per il 17 di febbraio però insomma anche perché oggi ho programmato un video per il 20 marzo quindi siamo a gennaio ancora quindi direi che sono un pochettino avanti vabbè l'ho lasciato dei giorni liberi giustamente perché sono tutto troppo stretto e quindi niente ci vediamo alla prossima ciao